La fornace penna continua a perdere pezzi rappresentando anche un serio rischio per tanti turisti e locali che nonostante l'inaccessibilità del sito continuano ad entrare all'interno del monumento per scattare foto e non solo. Dopo il sequestro preventivo eseguito nel 2016 dal nucleo dei carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale di Siracusa, su disposizione delle GIP del Tribunale ebreo e su richiesta della Procura della Repubblica, oggi non esiste più nessuna segnaletica chiara che evidenzi l'inaccessibilità del sito all'interno, a parte un cartello ormai sbiadito e poco leggibile che delimita l'area oltre la quale non sarebbe più possibile accedere. Non c'è né una recinzione né una tutela nonostante il sequestro, è stato affidato in tutela a uno dei proprietari che è la vedova del pallone penna a meno da quello che ho letto dai giornali e quindi diciamo che questo sequestro è servito e sta servendo solo ed esclusivamente ad eliminare la responsabilità degli enti preposti, solo per questo, perché se no non avrebbe senso il sequestro dell'immobile e poi lasciata aperta all'incurio. Come però ripreso anche dalle nostre telecamere turisti in area del pericolo, attratti anche dalla notorietà del sito grazie alla fiction del commissario Montalbano, continuano a visitare la fornace penna spingendosi fino agli interni della struttura. La fornace penna è uno dei beni architettonici più affascinanti del sud-est, ma ormai da decenni il sito versa nel degrado, in attesa che si risolva il braccio di ferro tra le istituzioni pubbliche e i proprietari che fino ad oggi hanno sempre rifiutato di utilizzare i fondi pubblici destinati alla messa in sicurezza del bene. Considerato anche che la famiglia non interviene, non c'è uno strumento, non esiste ad oggi uno strumento per cui la sovrintendenza o un altro ente preposto possa appropriarsi di questa struttura? Allora, l'articolo 30 del codice del bene culturale assegna in testa alla proprietà tutti gli interventi relativi alla tutela del monumento. Se la proprietà è inadempiente, l'amministrazione può intervenire in danno alla proprietà. A poco più di un anno dal suo insediamento, anche il sindaco Enzo Giannone si è preoccupato della questione, ma la difficoltà rimane sempre quella di interloquire con gli eredi della famiglia Penna. Ci sono stati degli approcci e prima di noi questi approcci li ha avuti anche su eccellenza il prefetto Librizi, cioè la prefetta che è andata via, credo anche la sovrintendenza si sta muovendo in questo senso, ma ripeto, si tratta però di un percorso molto molto complesso e molto difficile. Tante le iniziative che si sono svolte e che si svolgeranno per salvaguardare questa struttura, anche quest'anno, ad esempio, Lega Ambiente punterà i riflettori sulla fornace Penna, organizzando a San Pieri l'edizione 2018 dell'iniziativa Salva l'Arte. Faremo un'altra importante iniziativa coinvolgendo anche i media nazionali, perché oltre ad essere un bene tutelato dal Codice dei Beni Culturali, è un bene reso famoso anche dai media, soprattutto dalla fiction del commissario Montalbano. Grazie a tutti.